ho usato queste delle bestie queste tengano una casa una soltanto prima devo fargli l'invito la puntina a legno altrimenti ora gli faccio due pezzi di fondo 1 1 2 che cosa ci verrà fuori la puntina a legno altrimenti ora gli faccio due pezzi di fondo la puntina a legno altrimenti ora gli faccio due pezzi di fondo la puntina a legno altrimenti ora gli faccio due pezzi di fondo la puntina a legno altrimenti ora gli faccio due pezzi di fondo la puntina a legno altrimenti ora gli faccio due pezzi di fondo la puntina a legno altrimenti ora gli faccio due pezzi di fondo la puntina a legno altrimenti ora gli faccio due pezzi di fondo la puntina a legno altrimenti ora gli faccio due pezzi di fondo la puntina a legno altrimenti ora gli faccio due pezzi di fondo la puntina a legno altrimenti ora gli faccio due pezzi di fondo Grazie a tutti Grazie a tutti